La Virtus Francavilla consolida il primato, rifila quattro gol all'ischia e prosegue il proprio percorso in campionato a punteggio pieno con tre vittorie in altre tante giornate, zero gol subiti. Ginestra cambia due interpreti rispetto alla gara vinta a Francavilla in Sydney, Cevers tra i pali al posto dell'indisponibile Bertini e Gionai per Baillet. La carrellata delle occasioni da gol si apre al settimo minuto con Costantino che fa correre sulla fascia Pinto, pallone poi al limite dell'area persosa, la cui conclusione non inquadra il bersaglio due minuti dopo. Però la Virtus rompe l'equilibrio con la zampata vincente di Taurino sugli sviluppi di un calcio piazzato erroraccio di Zandri che non riesce a trattenere la sfera su una conclusione abbastanza innocua e sulla quale si avvente il numero 10 Biancazzurro che da pochi passi trova il terzo gol in campionato. Al dodicesimo altro pasticcio del portiere classe 2006 dei Campani che sbaglia i tempi dell'uscita, Sosa lo anticipa e a porta vuota da posizione defilata colpisce il palo. Al ventottesimo dopo una fase di sostanziale equilibrio Marco Nato sfiora il raddoppio, pallone recuperato sulla tre quarti e tentativo da fuori che deviato sfiora il palo alla destra di Zandri. Al trentaduesimo ancora Francavilla pericoloso sugli sviluppi del corner svetta su tutti Lanzolla che di testa non trova di poco la porta e il primo gol personale. Al trentasettesimo altro tentativo di Marco Nato a porta semivuota, pallone alto. Pochi minuti dopo l'inizio della ripresa fuori Gionai dentro Sisai per dare maggiore fisicità in mediana e al sesto proprio il neo entrato recupera un pallone sulla tre quarti e attiva Sosa che con un passaggio orizzontale pesca dalla parte opposta del campo taurino. Il capocannoniere della squadra tu per tu con Zandri non sbaglia e firma il 2 a 0. Al decimo botta da fuori di Sosa che impegna un intervento in volo Zandri. Al ventottesimo dopo uno stop di qualche minuto a causa di un malore sugli spalti la Virtus chiude la gara con il terzo gol. Sosa con l'istinto del vero centravanti debbia la sfera in porta e pochi secondi dopo concede pure il bis sfruttando l'ennesimo errore di giornata del portiere Campano Zandri. L'argentino sale così a quota tre centri in campionato. Poco dopo Ginestra gli concede il Pasillo de Honor schierando per il quarto d'ora finale a Righini in cui però succede poco e nulla e il Francavilla blinda l'ennesimo trionfo di una partenza spettacolare.